Siamo in playoff, siamo ai playoff, abbiamo vinto a Grotta, non hanno mai perso in casa, li abbiamo battuti a Spoleto e li abbiamo battuti qua, può essere, servivano punti per qualificarci, potranno bastare, lo seto ha perso, l'abbiamo vinto, quello è importante. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo creduto, se non ci garevamo sarebbe stato un grosso dubbio, ci abbiamo creduto, ci meritiamo questo, se lo merita la società, se lo merita lo Spoletino, il tifoso, tutti, ci lo meritiamo, ci siamo andati in playoff, sabato si parte, vogliamo adesso la più uno, non ce ne frega niente di chi possiamo sfidare, adesso vogliamo la più uno, vogliamo la più uno, ciao a tutti, vi aspettiamo in playoff.